Si chiama Ioniterapia ed è un trattamento terapeutico naturale che migliora la qualità della vita e ristabilisce l'equilibrio energetico all'interno del corpo. Non si sostituisce alle cure mediche, ma ha un eccellente supporto nei trattamenti farmacologici prescritti da personale medico, riducendo dosi e tempi di recupero. Il principio su cui si basa la Ioniterapia è molto semplice, poiché il corpo umano è per la maggior parte elettrizzato di carica negativa, quando questa diventa insufficiente il corpo si debilita fino ad ammalarsi. Ed ecco che dopo tanti anni di studi e sperimentazioni è stato creato un dispositivo medico detto Ioniflex che invia ioni negativi al nucleo della cellula, procurando effetti positivi su tutto l'organismo. A mettere a punto questo dispositivo, che ristabilisce l'equilibrio bioenergetico stabilizzando i radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento o di danni cellulari, Giuseppe Mauro, che lo ha creato e brevettato, i cui effetti benefici sta cercando di far conoscere ed esportare sia in Italia che all'estero. La cosa principale è che va a stabilizzare i radicali liberi, perché le cellule elettricamente sono all'interno di segno negativo e all'esterno di segno positivo. Il radicale a sua volta fa l'inversione della cellula, nel senso che quando la cellula porta, per un motivo che è quello di un trauma, una malattia, porta il suo potenziale interno negativo verso l'esterno e il positivo verso l'interno. I radicali liberi intervengono in quel momento e quindi cosa combinano? Disastri, disastri perché vanno a togliere la forza alla cellula e quindi nascono malattie. A crema questo dispositivo, che non è nient'altro che un piccolo macchinario contenuto in una valigetta, è arrivato con il classico passaparola. Persone private che ne hanno verificato gli effetti positivi hanno iniziato a parlarne, fino a suscitare la curiosità di molti. Risultati eclatanti sono emersi sia nel campo veterinario sia in campo estetico. Molti centri estetici si avvalgono di questo trattamento naturale. Mezz'ora di maschera sul viso riduce in modo evidente le rughe e gli inestetismi della pelle. Usare il dispositivo medicale per la ioniterapia è semplice e pratico. Si può anche fare terapia attraverso un borsello che noi diamo per il tipo pocket a casa delle persone, in cui si inserisce la macchina, si mette la fascia dove si ritiene di avere bisogno di irrorare ioni negativi nel punto che necessita e si può girare di sera, di giorno oppure anche di notte. C'è un programma notturno di due ore che si mette la fascia sotto la lenzuola e il bracciale sul polso e si possono fare le terapie durante la notte per chi volesse essere più tranquillo.